Sì, diciamo tranquilla per modo di dire perché i motivi di frizione fra i quartieri ci sono comunque stati e le scene propiziatorie diciamo che sono andate bene ma forse il consumo di alcol è comunque andato oltre i limiti di quello che può essere considerato mediamente accettabile, però senza drammi. Sappiamo che è un problema, parleremo con i quartieri per ridurre ulteriormente questa voglia di bere troppo ma la giostra è andata bene, non ci sono stati eccessi, durante il corteggio ci sono state le scaramucce che è normale che ci siano nessun atto di violenza vera e perpetrata diciamo in maniera premeditata. La giostra è stata bella, tecnicamente interessante, punteggi non altissimi, si è vinta con 9 punti però in realtà si è visto che ci sono dei quartieri che stanno crescendo, si stanno ritrovando quindi io mi auguro che alla prossima edizione ci siano mediamente un pochino più combattimento. È comunque stata una bella edizione, io sono contento. Il tema della lancia d'oro, comunque la consegna dal terrazzo è una cosa che rimane al di là di tutto? Al momento non può che essere così perché la fuga dei quartieristi nel momento in cui hanno vinto la lancia non consente con le norme di sicurezza di oggi di fare una consegna in mezzo al pubblico. Questo se era già difficile due anni fa, oggi è impossibile. Con le norme di sicurezza che ci sono io ho fatto una battuta, dico se il prefetto attuale avesse visto la consegna della prima lancia che ho fatto nel giugno del 2015 probabilmente l'edizione di settembre non si sarebbe corsa. Quindi è bene che continuiamo sul terrazzino fin tanto che non c'è una maturazione generale che però non vedo all'orizzonte, quindi per quello che mi riguarda rimane lì. Capisco che non è il meglio perché la tribuna ha tutto un altro significato, un altro sapore ma la presenza del pubblico, e ripeto nel pubblico non sono tutti alti prestanti ai tanti e si possono scansare se gli passano sopra la testa dei quartieristi che vogliono a tutti i costi andare a toccare la lancia. Ci sono persone anche di una certa età, ci sono persone che possono non avere... ci sono bambini piccoli e quindi quel parapiglia che nasce, che nasceva fin tanto che la consegna della lancia è stata fatta in tribuna d'onore che non sono più compatibili con le condizioni di sicurezza richieste e doverosamente richieste in un ambiente come quello di Piazza Grande.